Questa alle mie spalle è Benitsuru, qui a Taitoku ragazzi, ed il posto migliore dove assaggiare i pancake qui a Tokyo. Bisogna prenotare perché c'è sempre un botto di gente, sono fatti freschi ogni giorno, ve li faranno davanti a voi sia dolci che salati, e sono una vera e propria esperienza. Loro sono gentilissimi, io vi consiglio di venire presto la mattina in modo da prenotare il vostro pranzo o la vostra colazione, perché poi entro le 12 già hanno prenotato tutti i posti per tutte le ore, quindi è molto difficile possiate mangiarli. Venite presto la mattina, io sono venuto verso le 9 e meno un quarto, e il primo posto disponibile era le 12 e mezza. Vi mostrerò tutto, iscrivetevi al canale, seguitemi da Tokyo e dal Giappone. Come vedete, è già tutto esaurito e non sono nemmeno le donci. All'inizio è tutto, è tutto, è tutto, è tutto, è tutto. Grazie a tutti. 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 Buonissimi, buonissimi, molto ricchi, veramente gustosi, buonissimi, buonissimi, buonissimi ragazzi.